Una nuova sede negli spazi del San Gerardo di Monza, solo uno degli obiettivi per il futuro, con uno sguardo al passato. L'attività svolta dalla governance di ATS Brianza dall'insediamento 28 mesi fa del direttore generale Carmelo Scarcella e dei referenti sanitario, sociosanitario e amministrativo Bellini, Colaianni e Foini. Nel saluto della direzione strategica prossima a passare il testimone è la fotografia di un'azienda che al controllo unisce la promozione della salute. Analisi dei bisogni e delle fragilità, scuola per care giver, prese in carico a domiciliare, dimissioni sicure, l'istituzione di una conferenza per la salute mentale, l'attivazione di ambulatori medici temporanei per far fronte alla carenza di medici di base. 34.590 cittadini presi in carico solo nel mese di novembre con questa modalità. Alla guida dall'azienda, in uno dei momenti più complicati per la sanità, l'emergenza pandemica. L'elemento importante che è maturato per me, ma con questa direzione devo dire, è l'idea che l'Agenzia della Salute, oltre all'attività di programmazione, di acquisto, controllo, di vigilanza, ha un ruolo fondamentale di supporto. Il supporto che deve essere interpretato come un aiuto ai gestori verso la migliore qualità dei servizi e verso anche la risoluzione di problemi con un intervento dell'Agenzia della Salute, quindi dell'ATS, che connette il territorio con Regione Lombardia. Tra gli obiettivi è la razionalizzazione nelle sedi di ATS Brianza. Abbiamo un'unica sede di proprietà, che è quella di Lecco. Uno dei primi impegni che abbiamo fatto è stato quello di cercare una soluzione per una sede in Brianza unica che potesse ospitare, non in affitto possibilmente come siamo qua, visto il costo di questo immobile. e abbiamo presentato a giornale 2022 a Regione un progetto per una nuova sede, che sarà probabilmente nel nuovo, nell'esempio spiegale di San Gerardo, che è stato un progetto di edificazione di una nuova struttura o di ristrutturazione di un padiglione esistente. Siamo in attesa delle determinazioni regionali, oltre che del territorio. Siamo in attesa delle nostre strutture,